Mi avete detto che col cappello comunque non va neanche così male, quindi lo ripropongo. Sta iniziando ad entrare all'interno del mio outfit, anche perché comunque mi sto facendo crescere i capelli e sono sempre un po' passarelli, però dai, va bene così, facciamo finta di niente. Andiamo direttamente dentro a questo video, anzi, vi rubo ancora due secondi. Vi lascio in descrizione il link di un video che ho fatto uscire sul secondo canale. Si chiama Retro, il video si intitola Il potere della nostalgia, quindi se siete interessati a vivere un pochino di anni 90 vi lascio questo video che ho pubblicato sul secondo canale. È un piccolo spammettino e adesso invece iniziamo il video vero e proprio. Non ci siamo visti a pausa pranzo, ma perché? Perché ho lasciato respirare oggi, parola veramente chiave, il video del Pageli di stamattina che è andato molto bene. Bene, ho visto che tanti si sono divisi sulla prestazione di Bonucci e questa cosa è interessante, perché secondo alcuni la valutazione che ha dato Bonucci era troppo bassa, secondo alcuni invece addirittura sono stato troppo buono. Come sempre nel mondo è bello perché vario, anche il calcio si divide perfettamente a livello di opinioni, che sono tutte valide e poi ovviamente l'importante è che ci sia il rispetto nel discuterne e va bene così. Oggi è successo qualcosa di bizzarro, io vorrei allargare un pochino il campo all'esterno-destra, dato che comunque noi giochiamo col 3-5-2 in questa stagione, l'esterno-destro del 3-5-2 è stato spesso e volentieri un po' un problemino. In questa stagione abbiamo visto quattro giocatori giocare in quella posizione lì, cinque se contiamo anche Federico Chiesa contro il Napoli in un'apparizione abbastanza sporadica, diciamo la verità, dove comunque Allegri poi non ha più riproposto Federico e dove secondo me lo stesso Allegri ha capito che non può collocare un giocatore offensivo, un vero e proprio attaccante, infatti poi Chiesa l'abbiamo visto come esterno nel 4-3-3, come esterno nel 3-4-3 o come punta nel 3-5-2. Credo che ormai Allegri abbia abbandonato Chiesa, quindi diciamo quattro giocatori anche se il quinto è appunto Federico. Ci ha giocato McKennie, c'è giocato McKennie che in alcuni momenti della stagione è stato schierato proprio in quella posizione lì per via degli infortuni di altri giocatori della Juventus che andremo a vedere dopo. Ora, McKennie non fa più parte della rosa della Juventus, è stato ceduto in prestito al Leeds a gennaio, vedremo se verrà riscattato oppure no, perché comunque il Leeds naviga in una posizione classifica non proprio simpatica, anzi deve lottare per rimanere all'interno della Premier League, Premier League che comunque è molto aperta sia dal punto di vista della vittoria finale, sia dal punto di vista della qualificazione Champions, sia dal punto di vista della retrocessione. Siamo arrivati a 5, mi pare, giornate al termine, il campionato inglese lascia diverse porte ancora spalancate, quindi molto molto interessante seguire la Premier League. Io quest'anno ho iniziato a seguire un po' di più, non tanto le partite, magari me le recuperavo in seconda battuta, come ho fatto con City e Arsenal dell'altra sera, dato che giocavamo proprio in contemporanea alla Juventus, se devo dire la verità, si respira proprio un'aria differente, sarà perché magari non vivo proprio tutte le polemiche come si vivono in Italia, ci saranno sicuramente anche nel calcio inglese, però mi baso semplicemente sulla partita senza andare un po' più nel profondo, quindi respiro anzi, respiro ancora un po' di aria magica, legata magari alla mia incompetenza nella materia. Però McKennie è stato ceduto, però ci ha giocato. Un altro giocatore che abbiamo visto veramente poco è Sule in quella posizione lì. Sule che è stato utilizzato da Allegri in un paio di partite, io non me lo immaginavo in quella posizione lì, pensavo che non potesse giocare in quella posizione lì, invece Allegri l'ha utilizzato. Con il Napoli ha fatto una sorta di lavoro simile, perché comunque con il Napoli faceva o la mezzala, o comunque l'esterno nel 4-4-2, il raddoppio su VAR per dare una mano a quadrado nell'uno contro uno appunto del calciatore georgiano. L'avevamo visto anche in alcuni amichevoli invernali durante la pausa del Mondiale, però non mi immaginavo di poterlo vedere poi in partiti ufficiali. Invece l'ha fatto, ha fatto una prestazione dalle due facce, perché quando si sganciava e andava ad attaccare comunque in quella posizione che poteva centrarsi e liberare il mancino non mi era dispiaciuto, quando invece doveva difendere ha messo in evidenza diversi limiti, proprio perché lui comunque, come dicevamo prima per Chiesa, è un attaccante e non può fare il quinto di centrocampo. È un giocatore di qualità, la quantità sì l'ha messa, però abbiamo visto che non era proprio il suo. E proprio a questo voglio legarmi adesso, perché? Perché oggi è stato annunciato questo Mondiale Under 20 che si andrà a giocare in Argentina dal 20 maggio all'11 giugno. Bene, oggi è il 4 di maggio, significa che tra due settimane si inizia in un altro continente, Sule è stato convocato e quindi la Juventus dovrà fare a meno di Sule. Terminerà la stagione in anticipo rispetto alla tabella di marcia, proprio perché andrà a giocare questa manifestazione, che per lui sicuramente è importante, e che al tifosore la Juve invece non può fare così piacere, perché è vero che sì, il giocatore può mettersi in mostra, in evidenza, tutto quello che volete, però la Juve si priva di un calciatore che ultimamente stava iniziando a trovare anche un po' più spazio. Proprio la partita col Napoli, poi la partita dell'altro giorno col Bologna, dove è subentrato e dove ha messo subito un po' di pepe all'interno della partita e dove alla fine purtroppo si è mangiato un gol grande, però aveva anche messo in porta Eiling. Tra l'altro leggevo che forse anche Eiling potrebbe essere convocato dall'Inghilterra per questo Mondiale Under 20, quindi la Juventus andrebbe a privarsi di due giocatori che comunque sono aggregati alla prima squadra a tutti gli effetti, non utilizzati così tanto durante la stagione, ma comunque che hanno iniziato a muovere alcuni passi dentro la prima squadra. Si parla anche di Sekulov, di Hildiz e di Compagnon che potrebbero essere convocati da queste nazionali, quindi la Juventus potrebbe privarsi ulteriormente da altri calciatori che comunque sono tra Next Gen e Primavera. per quanto riguarda la prima squadra, sicuramente vedremo se anche Eiling verrà convocato oppure no. E questo è un problema, perché poi, l'abbiamo visto ieri sera, leggo il bollettino medico di Mattia Desciglio, a seguito dell'odierno infortunio al ginocchio destro è stato sottoposto presso il J Medical, certamente diagnostici che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore, nei prossimi giorni sarà pertanto necessario un intervento chirurgico. Giocatore che va rinnovato per tre stagioni, una l'ha vissuta, la prossima probabilmente non sarà a disposizione o comunque ritornerà a disposizione sul finale della prossima stagione, quindi non è un infortunio soltanto per oggi, ma un infortunio anche per il futuro. Poi ci sarà un anno in cui Desciglio tornerà da una convalescenza in cui andrà a giocare l'ultimo anno di contratto con la Maglia da Juventus. Quindi sicuramente è un giocatore che sul mercato non potrà essere messo proprio perché è infortunato. Un altro giocatore che avevamo visto ultimamente in una partita, quindi con il Sassuolo su quella corsia lì, era stato Barbieri, che a questo punto immagino sarà convocato più volte, spesso e volentieri, anzi secondo me verrà veramente aggregato alla prima squadra proprio perché l'infortunio di Desciglio necessita, a livello numerico, di un altro giocatore che possa giocare in quella posizione lì. E l'altro ovviamente che è il titolare, è Juan Quadrado. Juan Quadrado che è il padrone di quella fascia lì, però sappiamo bene che Quadrado non è più in grado di fare le partite, lo standard di livello di partita a cui ci ha abituato in passato. Notizia di oggi, Nico Schira riporta, Quadrado e Juventus si saluteranno a fine stagione. C'è sempre stato questo sentore, no? Adesso sembrano esserci delle conferme. Addirittura Luca Momblano dice, c'è già stato un incontro tra la dirigenza di Juventus e l'entourage di Quadrado, si sono salutati con una stretta di mano, quando termineremo appunto questa stagione, le prossime 7, 8, 9, quante saranno partite, poi Quadrado saluterà la Juve. Sicuramente un vero e proprio pilastro. Secondo me la Juventus Quadrado ha fatto una bellissima storia con la Juve, ha giocato tantissime partite, la sua maglia verrà esposta al museo perché ha superato le 300, però vede anche la dimensione, l'idea che il tempo sta passando e che la Juve su quel lato lì non si sta muovendo. Io sono stato tutt'estate a ripetere e tanti di voi nei commenti erano d'accordo con questa visione che la Juventus doveva intervenire tra la difesa e soprattutto sulle fasce. La fascia destra, e si parlava ancora di difesa a 4, quindi il terzino destro, era stato individuato come un vero e proprio problema. A maggior ragione se giochiamo con il 3-5-2, dove a destra non può giocare Danilo, almeno non tutta fascia, Danilo infatti è stato riadattato come terzo di difesa, e dove gli iniziano a mancare delle alternative. Dicevamo prima, ci ha giocato Chiesa, ma è un attaccante, quindi niente. Ci ha giocato McKennie, ma non c'è più. Ci ha giocato Sule, ma anche lui non è idoneo e adesso partirà. Ci ha giocato De Sciglio, ma si è spaccato il ginocchio, quindi in bocca al lupo a De Sciglio per questo recupero, per questa nuova parte di carriera. Ci ha giocato Barbieri una partita e quindi adesso magari prenderà la posizione di De Sciglio, il titolare è quadrado, ma non è più in una forma straripante e al termine della stagione saluterà la Juventus. Quindi viene naturale pensare che la Juventus sul taccuino, insieme al nome del DS, e vedremo se è davvero dell'allenatore oppure no, o se verrà confermato Massimiliano Allegri, ma credo che in prima fila, nella prima riga ci sia DS, rinnovi Rabioti Maria, e terzino destro, o comunque esterno destro, perché la Juve in quella posizione già era scoperta prima, si è reinventata, si è adattata durante la stagione e adesso con un giocatore che si spacca il crociato e un giocatore invece che lascia la Juventus a parametro zero dopo tanti anni di onorato servizio, beh, il primo input stagionale per il mercato è trovare un terzino destro e vedremo se Barbieri sarà promosso in pianta stabile in prima squadra, come riserva magari del giocatore che arriverà titolare in quella fascia lì. Fatemi sapere un po' le vostre considerazioni qui sotto nei commenti, fatto sta che quello lì è un vero e proprio punto debole della Juventus, dove invece a sinistra con l'acquisto di Kostic, e ovviamente anche le esplosioni di Ling Junior che secondo me quando è stato chiamato in causa ho fatto molto bene, a sinistra mi sento molto più a mio agio rispetto a chi a destra e fa ridere perché l'anno scorso invece la fascia a sinistra era un punto debole della Juve. Però sai, se puoi intervenire da una parte e non intervenire dall'altra, le cose possono cambiare. Grazie.